Welcome to Mirror TV! Ragazzi sono qui per parlarvi dell'ultima puntata di SmackDown andiamo subito dritti al punto con la Bloodline che ha aperto l'episodio dello show blue sprovvista però del Travel Chief Roma Reigns ma vi erano tutti gli altri quelli che poi sono stati tra l'altro grandi protagonisti di Survivor Series, del War Games Match e proprio Jimmy Uso ha deciso di dedicare la serata l'Opener all'MVP almeno così l'ha proclamato proprio il fratello di Jay l'MVP Semi, Semi, Semi Zane gli Uso sono meglio Jimmy ha voluto riempire di elogi quanto fatto da Semi lì a Survivor Series con Jay Uso che annuiva semplicemente al tutto da notare come se mi fosse visibilmente contento, emozionato si sentiva anche molto usi in quel momento spinto anche dall'affetto del pubblico ecco, io una cosa che subito vorrei far notare proprio così per descrivere un po' anche le sensazioni che ho avuto durante il segmento è che hanno fatto di tutto per aspettare fino all'ultimo perché se avessero interrotto il segmento prima magari del segmento dello scambio di 5 tra Semi e Uso e anche Jay in quel momento penso che sarebbe successo il Puliferio e Scimus sarebbe stato fischiato invece hanno aspettato fino all'ultimo stante per far arrivare il guerriero celtico di poche parole poi perché voleva avviare la Fight Night visto che poi l'Opener proprio il primo match della serata sarebbe stato proprio lui contro Semi, Semi, Semi Zain io ho trovato davvero il fatto molto godibile cioè si capiva durante il segmento della Bloodland di questa settimana che avrebbero aspettato fino all'ultimo istante per far arrivare qualcuno e ragazzi secondo me hanno fatto molto bene Scimus non è stato fischiato ma ve lo dico sono certo che se fosse arrivato 30-40 secondi prima qualche fischio se lo sarebbe preso a parte questo parliamo del primo match della serata che già sulla carta si presentava come un banger ed è stato un banger vero e proprio che contesa ma chi c'aveva dei dubbi io ma chi c'aveva dei dubbi se tu poi vai sicuro sul fatto che uno come Semi Zain in questo momento sta vivendo forse il miglior momento della sua carriera e dall'altra parte c'è uno Scimus che sì magari sta perdendo un po' troppi match ma pur sempre ha uno status importante viene comunque a trascinare ogni settimana di SmackDown una sua stable che gli vuoi dire? si dà il menutaggio banger assicurato infatti così è stato ero un po' più curioso di capire come sarebbero andate a gestire la roba fuori dal ring quando parlo della roba fuori dal ring mi riferisco ai team ai Brolin Brutes agli Usos e mi hanno soddisfatto molto io penso che questa settimana l'overbooking di questo match ce lo sono studiato a lungo perché non è stata neanche una cosa così tanto immediata è stato un overbooking è strutturato goccia dopo goccia ed è durato parecchio sto overbooking c'è una serie di minuti con Usos Brolin Brutes l'arrivo di solo si goa per sbilanciare un po' l'equilibrio fuori dal quadrato mentre su ring lì c'erano Scimus e Simizini che stavano facendo il loro match con i due che hanno resistito ai peggiori colpi possibili e guardate caso come arriva la vittoria grazie a uno di quelli che stavano fuori dal ring che invade il quadrato colpisce Scimus con un super kick e quest'uno è niente un po' di meno che Jey Uso perché Jimmy stava distraendo la vittoria ma la cosa più curiosa sicuramente questa settimana è che Jey Uso ha aiutato pienamente Semi Zaino con un super kick a Scimus che è andato K-O visto che poi Semi ne ha approfittato per fare una culla 1, 2, 3 Semi Zaino batte Scimus grazie a un aiuto totale di Jey Uso e che io dì era forse chiamato va benissimo ma sono stati 25 minuti credo molto godibili cioè i primi 25 minuti di SmackDown più che altro davano un senso a tutta sta storia che ci stanno ormai raccontando da parecchio tempo c'è logica dietro tutto questo poi magari arriverà a un certo punto dove qualcuno si stancherà vede sempre Scimus con i Brawling Bruins mettersi sulla strada della blog nonostante abbiano già perso delle contese importanti questo sono d'accordo però ragazzi è giusto che sia stato così nella puntata post su Various Serious almeno secondo me poi andando avanti abbiamo avuto il segmento di Bray Wyatt ragazzi questo Bray Wyatt che questa settimana era lì nel backstage e ci ha voluto informare che non è stato lui ad attaccare il malo modo Ellen Knight probabilmente messo K.O. per chissà quanti mesi no non è vero Ellen Knight oramai fuori dai giochi visto tutti i stattacchi che ha avuto in queste due settimane però Wyatt ci ha assicurato che non è stato lui anche perché fosse stato lui a detta sua Ellen Knight non potrebbe manco più raccontarlo per farvi capire quanto c'è stato cattivo con le parole Wyatt per quanto sia minaccioso attualmente questo Wyatt che poi ha aggiunto che qualcun altro molto probabilmente ce l'ha con quel ragazzo lì e chi è questo qualcun altro forse siamo arrivati finalmente a un nuovo percorso per questa storia di Bray Wyatt che si continua a minacciare essere cuburi settimana in settimana ma ancora non ci ha fatto capire effettivamente quale sia chi sia se ci sia un qualcuno accanto a lui vedremo come si evolverà questa situazione io continuo ad avere hype settimana dopo settimana purtroppo invece su internet lì sotto i vari segmenti su Instagram su Youtube leggo che c'è sempre molta titubanza molti vogliono tutto subito raga non si può fare così con Bray Wyatt non si può minimamente fare così con questi personaggi qua tempo al tempo andiamo avanti e parliamo di Emma contro Shana Bezler ma prima della contesa l'australiana è stata incitata da Matt Kat Moss oramai fan totale di Emma visto che i due stanno anche insieme in realtà va benissimo vogliono metterli insieme anche on screen e Matt Kat Moss ha cercato di rinculare Emma il più possibile visto che ha detto Matt Kat Moss lei è stata una delle artefici della WM che senza di lei non avrebbero fatto nessuna Women's Revolution WWE io stavo lì a dire ma che sadista vede che vori molchiare anche io però i discorsi di Matt Kat Moss non avevano chissà quale senso se non per il fatto che ecco devono metterli insieme on screen devono fargli spendere dolci parole ma va bene così ecco nonostante l'incoraggiamento totale di Matt Kat Moss Emma fatica molto a fare il match contro Shana Bezler che la domina per tre quarti della contesa neanche un vero proprio comeback da parte di Emma che ne esce abbastanza male secondo me da questa contesa contro Shana Bezler che la devasta poi la addormenta quasi con la Sliverhold seppure lei Emma abbia ceduto e non sia svinuta abbia proprio ceduto alla presa di Shana che ha continuato nel post match ad attacchiare Emma e a salvare quest'ultima è arrivata Shotsi ma pure lei ci ha preso le botte da Shana Bezler una Shana Bezler che mi sembra essere tornata ai livelli di NXT soltanto con una puntata una roba folle però qua ragazzi ha sdraiato due lottatrici in maniera proprio vecchio stile con la cattiveria con l'intelligenza e se l'intelligenza si è anche ripetuta quando è arrivata Raquel Rodriguez e lì Shana ha detto uno, due, tre io me ne vado a lei ed è giusto così ed è giusto così perché Shana Bezler è comunque un personaggio furbo a me la ricordavo così e per questo mi è sembrato di rivedere la vecchia Shaina e va bene va benissimo così è proprio bello vedere lei che contavano uno, due, tre mica sommata e ecco lo eri fino a settimana scorsa per me Shaina speriamo speriamo bene non voglio dire altro anche perché vi dico la verità tra Shana Bezler Shotsi Emma mi prenderò tutta la vita Shaina in questo momento la sua ricostruzione la preferisco sicuramente a quella dell'australiana e mi auguro che ci sia un punto di svolta poi io voglio anche evidenziare il fatto che Raquel Rodriguez si sia presentata con quel tutorial a braccio lei dovrebbe stare fuori dallo schermo dei schermi per 4-6 settimane sentendo i commentatori ma sta sempre lì sempre lì perché comunque incude un certo terrore vista la sua stanza vedremo dove arriverà anche la gestione di Raquel Rodriguez ecco su di lei fare un gioco diverso un discorso diverso rispetto a quello che vi ho fatto poco fa su Emma Schozzi che sinceramente parlando per essere pusciate come pensa qualcuno non ne devono fare a destrata io l'avevo detto già tempo fa Emma può fare al massimo a Mick Carter il lavoro Mick Carter Jobber se gestita così Schozzi dopo aver perso in quel modo Ronda che deve fare più di questo infatti è stata massacrata da Shana Basley andiamo avanti che è meglio parliamo di Kofi Kingston Kofi Kingston che prima del match contro Gunther si è iscritto alla Royal Rumble 2023 è il primo partecipante alla lista reale ed è quotata a 1-0-1 che farà qualcosa di matto perché conosciamo Kofi Kingston all'interno della lista reale vuole sempre stupirci in qualche modo cosa curiosa è che questa settimana gli hanno fatto affrontare Gunther visto i segmenti anche accaduti negli ultimi tempi tra il New Day e l'Imperium ragazzi Kofi Kingston ci ha provato a affronteggiare Gunther tra l'altro l'ha messo poco in difficoltà poco in difficoltà ma è giusto così come se non bastasse quando sembrava poter non prendere mano al match ma quando sembrava poter ingranare 2-3 offensive su Gunther ci si è messo Dick Keiser a distrarlo e lì a salvare o meglio a Darman Ford e a Kofi Kingston è arrivato Braun Strowman e Noxhader che era assente in questa puntata c'era Strowman che è andato a far piazza fuori da fuori dal ring ha fatto scappare i due componenti dell'Imperium anche se Giovanni e Louis Kessel l'hanno preso ed è brutto da Strowman in giro di 30 secondi e ragazzi tutto questo perché perché Strowman in qualche modo dovrà affrontare Gunther l'abbiamo capito non serviva chissà quale torneo per far far questo match tra i due si vuole gestire la cosa in questo modo Strowman ha pulito il ring cercando anche di voler aiutare Kofi con Gunther non è che poi una volta che l'Imperium è scappato lei Gunther sul quadrato ha sofferto Kofi addirittura se non sbaglio Gunther è andato a chiudere il match con una powerslam dopo che Kofi era riuscito a bastire due tre offensiva dopo che era rimasto solo con il ring general ma non ha potuto fare niente Kofi andato a K.O 1-2-3 vince Gunther che tornerà a farsi vedere più tardi e torniamo a parlare del guerriero celtico torniamo a parlare di Seamus che nel backstage è andato ad attaccare i Usos i campioni di coppia e ragazzi perché ha fatto questo? perché settimana prossima lui e Drew McIntyre vorranno diventare i nuovi campioni di coppia ma dovranno stare anche attenti perché i Usos difenderanno i campioni di coppia due volte settimana prossima e prima lo faranno contro Riddle e Lions c'è tantissimi dubbi sul fatto che magari a Smackdown settimana prossima campioni di coppia c'è un Riddle e Lions ma tantissimi guarda non riesco manco a contenere questi dubbi vabbè chi vuoi dire Drew McIntyre e Scimo sono quelli che hanno battuto gli Usos se non sbaglio settimana scorsa è un discorso anche abbastanza logico che a volte si fa anche facilmente non trovo non trovo nulla di sbagliato in questo se non che magari potevano aspettare due settimane visto che c'hanno tutto il tempo parambo almeno fa credere alla gente che Riddle e Lions possano battere gli Usos ma un pochetto credere anche ai fan quelli che so che vanno lì a pagamento all'arena di Robo e vabbè ti fa ridere le Lions sono sicuro che vincono no non ci si presenterà nessuno secondo me sono sicuro che possano vincere le Lions e fu così che vincere proprio andiamo avanti e parliamo del damage control Bayley Dakota Kei e Ioskai si sono presentate su Ring per parlare di quanto è successo nel World Games match femminile a Survivor Series seppur poi il pubblico abbia preferito zittirle con dei cori per Baggy Bayley ha detto guardate che Baggy come non sta qui giustamente l'irandese non era programmato per quel segmento e Bayley ha voluto quindi spostare un po' l'attenzione sullo spoglitorio di SmackDown dicendo che lì in quel roster non c'è nessuno che è capace che sia capace di sconfiggere il damage control mi ha fatto molto ridere questa cosa mi ha fatto molto ridere e poi risuonata la team di Liv Morgan che dopo un veloce di scuola tra l'altro ha fatto un discorso da leader spoglitorio di SmackDown Liv Morgan dopo questo discorso si è avviata verso il ring e con una facilità imbarazzante ha messo KO Dakota Kai e Yosuke andate a rivedere tutto quanto Liv Morgan potrebbe diventare campionese di coppia da sola l'ha dimostrato è riuscito a mettere KO e le due campionese in giro di due secondi poi vabbè andate in difficoltà quando ha colpito Bayley perché sono tornate di gran carriera da Dakota Kai a aiutare il loro leader però Liv Morgan era arrivato a 3.000 ecco 3 contro 1 uno si deve fare domanda ma chi verrà a salvare Liv Morgan perché qualcuno dovrà arrivare bam risuona un'altra team stavolta questa non l'ha riconosciuta nessuno difatti sono rimasti così terrorizzati quelli del pubblico che sono rimasti in silenzio appena hanno sentito sta team scherciamoli ora e si è presentata Tegan Nox Tegan Nox che è tornata in WWE per andare a salvare Liv Morgan per andare a mettere le mani sul Damage Control per andare a mettere le mani anche su Dakota Kai ex suo migliore amica in ex in con cui c'è una storia e anche qualche conto da chiudere mi viene da dire curioso il fatto che gira rigira alla fine Liv Morgan e Tegan Nox riescono a mettere in fuga il Damage Control che sono tre e poi nel backstage Liv e Tegan Nox ci fanno capire di essere pronte a far team ora questa cosa come ho sottolineato su Instagram è una cosa stra positiva per la team di Vision inesistente non bastano sicuramente soltanto loro però è già un piccolo passo quantomeno dall'altra parte però immagino che i fan di Liv Morgan in questo momento stanno mangiando le mani qualcuno ha anche indovinato il perché su Instagram si parlavano di questo discorso con Wyatt si erano fatte 300 di implementare e ora si ritrovano con Liv Morgan vicino a Tegan Nox che ne ha tanto da dimostrare a Matt Roster che ne ha riconosciuto nessuno figurate adesso se diventa over grazie a Liv vedremo vedremo Tegan Nox è tra l'altro uno dei favori di Triple H l'avevo già sottolineato questo nel famoso nella famosa live Triple H a capo di tutto Tegan Nox era uno dei primi nomi che ho detto che secondo me sarebbe tornata in WWE doveva risolvere i problemi che ho visto si è risorto tutto quanto è un qualcuno che a Triple H piace da capire ora però quanto gli piace sta Tegan Nox se lei è tornata al 100% non tanto di questo ma fisicamente perché Tegan Nox ha avuto diversi problemi diversi problemi fisici e speriamo che che si faccia un ragionamento giusto perché sulle donne secondo me si può fare un certo discorso su tutti gli altri uomini che stanno ringangiando di di un certo livello bisognerebbe fare un altro qui il ritorno di Tegan Nox viene fatto per dare un senso alla Tegan Division o meglio per iniziare a dare un senso almeno credo che sia questo il discorso che si vuole fare perché credo che Limorgan e Tegan Nox faranno coppia contro Yosuke e Takodakai vediamo poi che succede visto così però in questo momento per me è un ritorno che ci sta promosso questo è promosso vedremo però se sarà detto ciò dobbiamo parlare di Karyon Cross che con un video mistico ci ha fatto capire di avercela con Rey Mysterio è lui la prossima vittima del marito di Scarlet e io a parte gli scherzi devo andare dritto al punto e dirvi ciò che ho provato dopo il segmento perché ho detto ma per quale motivo non gli hanno fatto far sta roba non appena arrivato oppure subito dopo la storyline con Drew McIntyre oppure guardare dopo la vittoria contro Drew McIntyre e le mi pare Extreme Rules questa è la roba che dovrebbe far Karyon Cross per essere un qualcosa di diverso a SmackDown ma qualcosa di diverso di positivo questo uomo questo ragazzo ha bisogno di questa roba particolare perché il suo personaggio non è come tutti gli altri non lo può essere e poi quando va sul ring purtroppo ancora non riesce a lasciare chissà quali perché non è che fa chissà cosa di nuovo o stupefacente non lo fa neanche a modo suo che si differenzia molto dagli altri in questo momento qui quindi io gli avrei fatto far più di questi segmenti a Karyon Cross perché gli fanno bene poi in compagnia di Scarlett gli fanno ancora più bene che gli vogliamo di vedremo poi perché ce l'ha Core Mistilio tutti ultimamente ce l'hanno un po' tutti i Core Mistilio ma va bene così Main Event per assegnare la Coppa del Mondo altro che quella calcistica qui è stata assegnata nel mondo del Pro Wrestling a Ricochet Ricochet che ha sconfitto Santos Escobar in un grande Main Event un grande Main Event con un lottato di un livello secondo me altissimo questo è stato anche qualcosa più del banger match all'Opener devo essere sincero mi ha intrattenuto molto di più perché poi era la prima volta che si affrontavano in WWE se non sbaglio si erano affrontati tanti anni fa Lucia Underground che io poi vedevo di qualche contesa me la sono anche andata a recuperare questa l'avevo già vista all'epoca che vedevo di Santos Escobar e Ricochet sono due talenti cristallini che se gesti di bene potrebbero essere molto più che Demir Kiarder Ricochet ritrova un trofeo tra le mani e io sono felicissimo di questa cosa perché poi lo fa al culmine di un match che lui ha dato davvero tutto divertendosi molto a lottare contro Santos Escobar che io ho sempre detto ha qualcosa in più degli altri messicani che abbiamo visto negli ultimi anni in Davide a lui a mani basse ve l'ho detto ve l'ho detto Santos Escobar ha qualcosa in più oltre il fatto che parla un fluente inglese molto bravo e credo che ora tutti voi che non lo conosciavate che non sapete ma magari quello che aveva fatto a Nexie mi sente un po' creduto no Miro ha ragione questo ragazzo è bravo ok che ha perso la finale magari non c'è ancora Killer Instinct però è bravo che gli vuole dire Escobar tra l'altro vederlo uscire quando Ricoccii ha fatto la scena di Star Press lui si è chiuso a Riccio gli ha fatto pensare che potesse vincere il match con qualche furbata nonostante la situazione un po' particolare perché dobbiamo essere sinceri il legale del Fantasma in questo match è stato proprio stupido cioè dopo un minuto e mezzo sono fatti bannare dal ring anche Zelina Vega anche Zelina Vega una cosa folle si è alzata al tempo di momento per andare a protestare l'hanno buttata fuori come una scema e Zelina Vega sappiamo benissimo di che livello sia come manager non solo quando c'è il microfono in mano ecco mi dispiaciuto giusto questo poi però ho messo tutti quei discorsi da parte ho detto forse vogliono far lottare forse vogliono far capire il livello di Escobar in un match lungo con un atleta delle capacità di Ricochet che oramai nel roster conoscono praticamente tutti e mi è piaciuto tutto quanto anche la vittoria di Ricochet con la sua vecchia finice perché la rispolverà da quantissimo tempo l'ho apprezzata davvero tantissimo Ricochet vince la Coppa del Mondo la va anche a sollevare partono i Pairos come se avesse vinto chissà cosa e poi con questa Coppa del Mondo si gira sei volte e si trova avanti Gunther avendo ottenuto una rato shot al titolo del continentale del ring general colui che poi ha torto anche il titolo quindi sarà un altro rematch e ragazzi però Ricochet ci arriva con uno status diverso con una consapevolezza diversa con risultati importanti si defila e va bene così è una Coppa del Mondo che è servita per rilanciare Ricochet me lo auguro però questo è sempre il classico discorso non è che poi uno se perde con il campione poi me lo metti da parte o fai spiegare due settimane e gli fai fare di nuovo il nulla magari troviamo una rivalità per Ricochet qualora dovesse perdere contro Gunther tra due settimane a Chicago perché Ricochet l'ha dimostrato ancora anche in un torneo con tre match secondo me tutti importanti soprattutto l'ultimo soprattutto l'ultimo forse a livello di vittoria a vederlo vincere il vostro romano è stato quello più scandaloso tra virgolette però a livello di prestazione lì come sento si scopa tantissima roba tantissima roba vedremo che accadrà ora fatemi se la vostra qui sotto nei commenti come al solito spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale adesso ancora fatto ragazzuoli da me è tutto più sweet